Alexander, praticamente negli stessi minuti in cui parlavano Joe Biden e Volodymyr Zelensky parlavano evidentemente del conflitto in Ucraina, è scoppiato un altro conflitto seppure di dimensioni inferiori e seppure un conflitto che si trascina da quasi 30 anni vale a dire quello del Nagorno-Karabakh però uno scenario in cui ancora una volta è coinvolta Mosca Mosca sarebbe insieme ad Ankara uno dei due paesi che dovrebbe garantire il mantenimento del cessato e il fuoco Mosca che è accusata di essere a conoscenza dei piani d'attacco di Baku e nonostante questo di non aver fatto nulla, se ne è parlato lì a New York? Sì, sono tanti i temi, come dicevi anche tu da studio, i tuoi ospiti io ho avuto l'occasione oggi per l'Agenzia Vista di seguire il dibattito proprio dalla aula dell'Assembly dell'Aula dell'ONU sempre molto molto emozionante e posso confermarti questo, c'era il discorso di Biden e il discorso di Biden era molto molto seguito appena finito il discorso di Biden la metà dell'Aula si è alzata ed è uscita per degli incontri per prendere un caffè, per fare delle altre incontri ed è proprio uno dei temi, uno delle questioni che ponevate anche da studio ovvero in qualche maniera il non ascolto di quello che sono gli appelli, di quello che si dice in aula e quindi la necessità di formare questa istituzione per farla in qualche maniera portare a delle azioni concrete dopo gli appelli e dopo gli interventi quello che abbiamo visto anche nelle tue immagini un'altra cosa che a me ha fatto visivamente anche impressione è questo Zelensky che arriva in aula alle Nazioni Unite e c'è, sentitevi sottofondo, i tipici rumori di New York le sirene di New York assolutamente inconfondibili esatto, allora quelli ci sono continuamente naturalmente proprio non segno, sta passando una camionetta dei vigili del fuoco noi qua sono visti molto come degli eroi diciamo, ci sono proprio tutte le, lungo le strade diciamo, del centro di Manata le coserme dei pompieri storiche che sono anche aperte in qualche maniera al pubblico e ci sono, diciamo, tutti i turisti che vanno a farsi le foto chiuso questa parentesi l'altra cosa, ecco ti rivediamo, concludi quello che stavi dicendo Sì, quindi diciamo in breve la seconda cosa che a me ha fatto impressione oggi è questo Zelensky che si presenta all'Aula delle Nazioni Unite vestito di mimetica militare con il tipico vestito militare e questo, diciamo, è una cosa abbastanza irrituale all'interno dell'Aula e poi questo Biden che torna a partecipare al dibattito perché un presidente americano nelle ultime edizioni non si vedeva ed è una delle cose che hanno lamentato la gran parte dei paesi ovvero la mancanza, a parte Biden dei paesi che fanno parte del Consiglio di Sicurezza con diritto di veto perché che cosa chiedono soprattutto diciamo il resto del mondo che è meno rappresentato chiede di essere ascoltato chiede di poter spiegare le proprie ragioni e di avere quindi anche un ascolto da parte dei paesi più potenti più ricchi per poter, diciamo, aspirare a uno sviluppo e per quanto riguarda il tema dell'immigrazione di cui naturalmente in Italia molto si parla ecco, dall'America visto dall'America è solo uno dei temi e qui sta anche il ruolo della Premier di Giorgio Meloni che è quello di sensibilizzare di spiegare di portare questo tema sulle agende dei grandi e sulle agende delle organizzazioni mondiali perché visto da New York è solo uno dei temi non è il tema centrale come lo vediamo noi in America un po' Giorgio Meloni l'ha portato in Europa e abbiamo visto i risultati con Von der Leyen con la missione europea in Tunisia ma una seconda questione è questa e l'ha detto la Premier poco fa proprio qui al Colombo Circle dove ci troviamo dove ha rilasciato questa intervista che l'Italia ha cambiato strategia sulla gestione dei migranti in che senso? In senso che i governi precedenti a quello attuale puntavano molto sul ricolocamento dei migranti quindi su un accordo nucleo europeo di ricolocamento dei migranti con tutti i casi che abbiamo seguito con la chiusura delle frontiere con alcuni paesi che si risultavano con la gran parte dei paesi europei che da una interpretazione economica monetaria a un problema di dimensioni molto molto più grandi e noi insieme ad altri paesi di frontiere che ce lo viviamo in prima persona ecco il governo di Meloni invece ha cambiato la strategia e non punta più ai ricolocamenti che si punta a un'azione congiunta di tutti i paesi europei sulle frontiere esterne quindi non punta più alla immigrazione secondaria ma alla rafforzare le frontiere ma non soltanto a livello militare ma andare proprio ad intervenire laddove sono in qualche maniera le cause che spingono poi le masse di persone ad emigrare naturalmente non è un lavoro che possiamo aspettarci che può arrivare da un giorno all'altro ma se non iniziamo non potremo mai mettersi nella giusta prospettiva e andare ad aggredire un fenomeno che è molto molto grande e che dobbiamo in questo momento inseguire Grazie, grazie ad Alexander Yagnagiev che nonostante le difficoltà tecniche ci ha raccontato anche l'atmosfera di questa assemblea grazie a tutti grazie a tutti